Parliamo di Movida, degli orari della Movida, se ne parla a Pescara ormai da tempo. Insomma, nelle prossime ore, nei prossimi giorni dovrebbero esserci delle novità? Ma allora, per quanto riguarda la Movida, un piccolo preambolo è assolutamente necessario. Purtroppo è difficilissimo trovare un punto di caduta tra i diritti dei residenti a riposo e i diritti degli esercenti che invece vorrebbero chiaramente e liberamente svolgere la loro attività economica. L'amministrazione da subito non ha avuto un atteggiamento pilatesco, ma ha preso in mano la situazione e ha cercato di trovare da sé un punto di equilibrio, visto che non è stato possibile trovarlo con la collaborazione delle parti in causa. Noi riteniamo che Pescara, la mia proposta, che poi è anche quella di parte della maggioranza e comunque quello che l'anno scorso il sindaco ha fatto, è quello di dividere l'anno in due grandi settori. Il primo settore, che è quello estivo, che va da maggio a metà settembre e anche una parte del periodo di dicembre che chiaramente deve tendere a permettere ai locali di essere aperti e di avere una maggiore libertà perché sono mesi in cui le attività devono lavorare, ma sono mesi in cui abbiamo dei turisti qui a Pescara e Pescara, a mio giudizio, deve sempre di più rafforzare la sua vocazione di città turistico-commerciale. Dall'altro ci sono dei mesi, quelli prettamente invernali, dove invece secondo me un sacrificio può essere richiesto agli esercenti e quindi andare maggiormente incontro ai residenti che possono godere di molteplici mesi con la massima tranquillità e la serenità per il riposo. Questa è la proposta, questa è una proposta che a mio giudizio è una proposta di buon senso con tutta una serie poi di elementi aggiuntivi, per esempio l'occupazione suolo pubblico come diceva lei prima è finita l'emergenza sanitaria, non avremo più il doppio dell'occupazione suolo pubblico quindi c'è una riduzione dello spazio occupato, quindi anche del rumore antropico. Su alcune zone, quelle a rischio, chiaramente dopo le 10 inibiremo la musica quindi ci sono anche delle altre misure che nonostante i mesi estivi e quindi con degli orari che abbiamo proposto più ampi però sempre la tutela dei residenti è garantita con anche altre misure che stiamo prevedendo.